cari amici e cari amiche ben ritrovati lungo la via dei simboli questo brevissimo video per scusarmi con voi nel non aver pubblicato altri video ormai da circa tre settimane ma mi sto dedicando costantemente a concludere questo scritto per poterlo pubblicare al più presto ma a breve metterò in rete forse tra oggi e domani già una parte di video legati sempre ai simboli e misteri del monte ammiata per poi passare ad altro e colgo l'occasione anche per confidarvi una certa amarezza che ritrovo spesso dentro di me quando capita di scoprire che delle ricerche sono state copiate per intero e sono stati confezionati dei libri dei testi e considerati come propri senza citare l'autore dello scritto questo è ciò che è successo a me a me è successo anche piuttosto in maniera eclatante perché ho ritrovato in uno scritto di fatto gran parte degli articoli in parte in rete e in parte inseriti nella guida alla maremma insolita e misteriosa e in tradizioni magiche in maremma nonché articoli pubblicati su riviste di settore come scienza e conoscenza e le antiche dogane che è un una rivista mensile che tratta di storia cultura territorio e tradizioni della maremma e che sono mie produzioni di un periodo che va dal 2011 al 2017 anzi ci sono articoli che risalgono ancor prima del 2011 al 2009 2008 e poi ti capita di ritrovare questi articoli per intero senza cambiare neanche una parola senza cambiare il titolo all'interno di libri dove non sei citato in nessuna parte questo fa molto molto dispiacere perché basta poco basta citare l'autore e anche senza anche senza contattarlo io cerco sempre di essere corretta e dove mai ci sono state delle sviste per cui mi sono dimenticata di qualcuno ho cercato di sopperire a queste a queste distrazioni con le edizioni successive o con una dichiarazione che ho messo nel mio blog o nei miei profili sui social quindi basta veramente poco devo dire che in genere le persone più corrette sono le donne però non sempre è così per esempio nell'ultimo caso a me è capitato non è stato così e come ultima cosa che vorrei dire e ci tengo per far comprendere il lavoro che ci sta alle spalle che chi scrive di antropologia del folklore di tradizioni e chi scrive di di una parte di quel mondo che è sempre movimento e che magari si ritrova nelle aree rurali fa ricerca sul campo non fa solo divulgazione alcune cose fanno parte di ricerche precedenti fatte da altri antropologi poi alla base ci sta una preparazione culturale di ogni singolo ricercatore scrittore ma prevalentemente chi fa questo tipo di ricerche non è un divulgatore fa proprio fa vera e propria ricerca sul campo e quindi quando poi succede che chi fa ricerca sul campo non è finanziato da nessuno ma lo fa per passione personale come me come altri amici ed amiche fa dispiacere che questa questo sacrificio venga annullato in parte da chi espropria plagia le proprie ricerche senza che si venga citati questo volevo dire e poi ci incontriamo nei prossimi video io prediligo poi il incontri proprio collettivi fisici di conferenze speriamo che con la bella stagione si possa ripartire anche con questo perché la condivisione è importante e questo è uno strumento è uno strumento digitale che può far arrivare certe riflessioni anche a chi non si può muovere da casa o non si può muovere per motivi di lavoro ma fondamentalmente la ciò che avviene quando si si partecipa a conferenze o a seminari è qualcosa di così energeticamente bello che non ha paragone con questo canale un caro saluto a tutti e ad incontrarci al prossimo video